Ciao a tutti, eccomi dopo un po' di pausa, dovuta a troppo lavoro e infatti devo anche io un attimo ritrovare il centro e riprendere a seguire quella che è la mia strada, perché nell'ultimo periodo sono stato preso da incombenze, da obblighi, da doveri, da impegni pregressi e non ho avuto la forza e la voglia di dire dei sacrosanti no, perché i no sono fondamentali, senza la capacità di dire no agli obblighi, alle richieste, agli impegni, a quelle cose che ci sembrano ineliminabili e in realtà sono soltanto favori che facciamo a qualcuno o promesse che manteniamo, senza la capacità di dire no e non riusciamo ad andare da nessuna parte. Oggi mi sono preso un attimo di spazio per rientrare in contatto con voi, spero che chi stia guardando questo video sia sulla strada dell'autorealizzazione, se non lo fosse guardando alcuni dei miei video potrebbe magari avere qualche stimolo, nulla di più, nulla di patinato, nulla di confezionato, delle riflessioni spontanee, profonde, vere che lo aiuterebbero, lo aiuteranno a realizzare, ad individuare il percorso oppure a superare qualche ostacolo. Quindi il primo concetto che voglio riprendere con voi oggi è quello dell'importanza del no, fino a quando non sarai capace di sostenere la difficoltà, la responsabilità del no e sarai bloccato, sarai bloccata, sarai al di qua del percorso che ti fa stare davvero bene, perché da una parte c'è quello che senti, quello che sai, il cammino che ti porta verso una condizione di piacere, di benessere nel fare una determinata cosa, dall'altra c'è quello che rischi, quello che perdi, quello che devi lasciare andare o a cui devi rinunciare. E c'è una forza, una trazione da parte di elementi, di persone che cercano di tenerti nella condizione in cui sei. Ma la condizione in cui sei, se stai guardando questo video, non ti piace, non ti soddisfa, è poco gratificante. E allora il no, e allora il taglio, la decisione, la rinuncia, il coraggio, avere coraggio, avere la forza di andare per la propria strada, rendendosi conto che la dobbiamo smettere di fare i finti altruisti, ci dobbiamo preoccupare un po' di meno di assecondare quei bisogni che non sono interni, innati, che sono di qualcuno. Perché seppure realizziamo quei bisogni che non sono innati, che sono di qualcuno, al momento quel qualcuno sarà felice. Ma in fondo, se noi non siamo felici, non possiamo generare felicità reale in qualcun altro. Perché se è un nostro partner, quel partner sentirà la nostra frustrazione. Se è un nostro figlio, un nostro genitore, è idem. Se invece è qualcuno che ci ha chiesto un favore, glielo facciamo in quel momento, non aiutiamo la persona in questione a farcela con le proprie gambe, con le proprie risorse. Ci sostituiamo a quella persona. Ecco perché dire o no, pensare un attimo alla tua strada, al tuo percorso, rinunciare per conquistare, rinunciare a quello che è stabilito, che ti sembra essere il percorso ormai designato per conquistare nuovi territori, ignoto, mistero, rischio, è la cosa migliore per darti adrenalina, per darti voglia di fare, per alzarti e per camminare lungo il sentiero della tua realizzazione. Buona vita, buon tutto, buon destino da Rosario Alfano.